Ciao ragazzi, io sono Furin Kazan e sono tornato qui oggi sul canale del clan con questo nuovo video intanto vi ringrazio perché ho visto che vi è piaciuto quello precedente riguardo la E-Map e in tantissimi mi avete scritto le vostre opinioni, quindi vi ringrazio, sono contento quest'oggi vi portiamo un 149.4 in solo con nuclear di JTF Rio non so altro perché purtroppo essendo un po' tutti in velocità non ho il gameplay sott'occhio quindi non so né classe né niente, mi dispiace, in ogni caso lo starete vedendo ok niente, mi sta arrivando adesso l'informazione che è fatta su carrier con lo scaraca quindi proprio informazione in live, grazie Milan comunque, allora l'argomento di oggi è un qualche cosa che mi avete chiesto tempo fa sulla pagina perché avevo messo un post dove vi chiedevo qualche consiglio per un prossimo commentary mi avevate commentato ma io poi avevo già in mente altro e quindi avevo fatto altro allora mi avete chiesto di parlare del fatto se secondo me sia giusto dover pagare il live, il gold dell'Xbox oppure anche il PSN, quindi sia il live sia il premium ma anche come succedeva su Allgen il live da pagare su Xbox mentre invece il PSN che era gratis quindi vedere un po' questo allora secondo me già di suo dovrebbe essere gratis la connessione perché nel momento in cui su un gioco c'è scritto possibilità di connettersi a internet e al massimo ti devi pagare la tua connessione ovvio come è giusto che sia perché tu hai un servizio di tuo che non usi solo per il gioco ma il fatto che in più, il gioco intendo la console che in più uno debba anche pagarsi il live così per nulla sinceramente no, non lo vedo giusto adesso che hanno aggiunto, anche perché scusate non credo che l'online dell'Xbox fosse così tanto incredibile rispetto a quello della PS3 da giustificare un costo aggiuntivo di quel tipo quindi non lo so, sinceramente non vedo questo motivo in più invece sulle next gen c'è da pagare adesso io ho in mente PS4, non so benissimo come sia su One però su PS4 voi pagate più o meno 50 euro l'anno e avete la vostra connessione e in più avete immediatamente il plus questo cosa significa? significa che avete magari dei contenuti in più prima su PS3 c'erano degli avatar in più c'erano, non so, degli sfondi per la play e quindi sì c'era questa cosa in più adesso con la PS4 credo che ci sia un gioco al mese gratis però ragazzi non pensate nel gioco al mese, che ne so COD, FIFA, Battlefield, Destiny, giochi top mi ricordo che quando avevo il plus tempo fa che l'avevo vinto con un codice c'era Uncharted dico sì va bene Uncharted cioè un gran gioco però è uscito 6 o 7 anni fa cioè non era non sono giochi nuovi quindi sì per carità vi da il video vi da il gioco in più magari se siete youtubers ci fate due video se siete invece giocatori così gamers normali ci giocate un po' però non giustifica lo stesso una spesa di 50 euro l'anno per carità 50 euro l'anno sono pochi perché sono 4 euro al mese non è che uno non abbia 4 euro al mese credo che più o meno se uno si permette di avere una PS4 si permette anche i giochi a 4 euro al mese ma è il principio cioè dover pagare per ottenere qualche cosa che è già incluso nella natura dei giochi quindi su questo non sono d'accordo sono d'accordo con il fatto che almeno su PS4 e suppongo un Xbox ma non vorrei dire una cosa falsa quindi parlo solo di PS4 almeno non si paga più tra virgolette solo la connessione internet ma si paga direttamente il premium che è diventato praticamente obbligatorio e quindi almeno avete questi vantaggi questi plus ognuno poi la pensa come crede secondo me faremo tutti a meno di questi plus e non spenderemo 50 euro l'anno ma è anche una tecnica economica ragazzi cioè quando voi volete vendere un prodotto che da solo non verrebbe venduto lo mettete insieme a qualche cos'altro esempio quando voi comprate tanto per dire la televisione vi dicono è in regalo anche che ne so il paio di cuffie o di auricolari o quello che è il televisore che magari l'avete bisogno lo prendete invece il paio di cuffie di vostro non lo comperate cioè è proprio una tecnica economica di psicologia economica quindi insomma il discorso è un po' questo se volete magari che affronti anche il discorso dei DLC che mi avete fatto anche questo che lo faccia io o che lo faccia qualcun altro mi raccomando scrivetelo nei commenti oggi non ho più tempo quindi non lo tratto niente io spero che vi sia piaciuto tutto se è così un like un commentino datemi qualche indizio per un prossimo commentary io vi ringrazio e noi ci sentiamo come sempre al prossimo video ciao 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 ciao